Vorrei dire all'onorevole Rizzetto, perché è l'unico parlamentare oltre alla macina presente in questo dibattito, di affrontare il tema di evitare l'influenza del capitalismo finanziario sulle materie prime, perché in realtà il prezzo delle materie prime, energetiche o alimentari, sono alimentate dalla speculazione finanziaria. Le materie prime sono la vita del mondo, queste devono essere una zona free dal capitalismo finanziario. E questo è molto interessante, poi ci riparliamo e ci ragioniamo. Mirta, buongiorno.